Musica 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 vediamo si fa la trattetta 10 è un sacchettino è uscito vado a suonare quello a lei che può si 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 sta facendo un'ora del piatto di lei tra il cento del tono l'ultimo blocco per la categoria si che i piedi non vi servono vai Stefano ci siamo ci siamo Stefano vai gente un bello applauso per il primo top Stefano Bisolfi diciamo che ci ho lavorato un po' quindi ho cercato in tutti i modi di vincere quindi alla fine sono riuscito sai che stiamo male per te Jenny se non dai Jenny dai Jenny e quindi non lasciamo spazio agli avversari ricognizione secondo blocco due minuti diciamo io sono bloccato Alleranza Alleranza Sai, Catieni Sai, Catieni Sai, sei tutto Viva il metto in mell'azione Vizio i nexisti Viva il metto Ale Giada Alleranza Alleranza Allaanza Vai Dura! Hai ancora un minuto e sette secondi. Aspettatevi come un quadro. Vai Martina! Vai Martina! Vai Martina! Vai Martina! Vai Martina! Grazie! 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 Lascia il passo. Francesco Dottor... Dottor Ricciardi. Martina Giurello. Testa a testa. La veterana del circuito, Jenny Navarda. Ancora lì. L'unica possibilità per sé con la scuola. Come Jenny? Sì, così Jenny! Rusty che l'ha vincita. Rusty che l'ha presa anche quella lì. l'ha presa anche la scuola. Ed ecco qua Jenny Navarda! Da questo punto vincitrice di questa quarta prova. Grazie! Grazie! Bravo! Bravo! A posto! quindi sì dai me lo aspettavo il podio